ricorda di non alzarti mai al mattino con il muso perché della giornata non ne avrai buon uso inizia col non contare le tue rughe che si accentuano col cattivo umore la bilancia poi non la guardare è solo un altro modo per farti esasperare gli abiti se vuoi un consiglio se non ti vanno più non li indossare stai comoda che è meglio ne gioverà anche l'aspetto e poi scendi e fai tutto quello che ti pare e se hai un lavoro vai gioiosa a lavorare conversa incontra sfoga tutto ciò che hai dentro ti aiuterà vedrai a superare qualche brutto momento ma soprattutto sogna che tutto va nel giusto verso e un po alla volta ci crederai e ti sentirai diversa poi nel sogno mettici pure un po d'amore e trepidante aspetterai la sera lui arriva a casa e tu tutto di un colpo ti sentirai la donna più romantica del mondo è fantasia forse ma è così che vivo la vita mia la donna più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.